Ora no, Massimo, mi pare di capire che tra quelle squadre che dicevi all'inizio, che hanno agevolato la marcia dell'Inter, ovviamente contempli in primis il Milan. No, 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 scusami, ma io non ho detto agevolato. Io ho semplicemente detto che se il Milan, con l'organico che ha di qualità e di profondità, che ha trovato sul mercato, perché i vari Pulisic, Loftur Cic e tutti quelli che sono stati acquistati, almeno quasi tutti quelli che sono stati acquistati, sono giocatori già fatti e finiti e secondo me aveva in mano un organico che per qualità e profondità poteva, a mio avviso, intanto passare il turno di Champions. Io so anche se il Girone poteva risultare complicato, però poteva passarlo perché alla fine vinci col Dormone in casa e sei passato, o vinci col Newcastle in casa e sei passato. E lì sono stati due mancanze. E tra le altre cose non sei mai entrato, ma neanche una giornata nella lotta per lo Scudetto, tenuto presente che io la lotta per lo Scudetto la identifico, diciamo così, tra virgolette, da novembre in avanti. Non è che dopo tre giornate di campo, se no mettiamo anche il Lecce che era terzo nella lotta per lo Scudetto. No, no, dicevi il demerito degli avversari. Il Lecce c'è stato in un certo momento che era terzo. Ah no, certo, certo, è quella che si fa più polposa a un certo punto, ovvio. Però tu dici, grande Inter, ma ci sono stati anche demeriti di altre squadre che sono mancate all'appello. Ugo? Ma non sono tanto d'accordo con Massimo sul fatto che il potenziale del Milan è stato una sorpresa. Ugo Sanchez per Di Marco che si coordina di sinistro e la palla esce sul fondo perché il diagonale dell'esterno-sinistro dell'Inter è troppo angolato per prendere la porta. Bello il controllo di Sanchez con il destro, alza la testa e poi con una semitrivela alla quaresma. Prende molto bene il giro e il pallone, quindi serve Di Marco che da sinistra si coordina ma non riesce a prendere la porta. Una semitrivela? Vai un po' ritorniamo in cronica. Quel puntero, perché se tu riesci a comprare un giocatore dal Cessi a 20 milioni, il Cessi non te lo dà perché ti dà un fuoriclasse, ma ti dà un giocatore normalissimo. Il Milan ha comprato dei giocatori... Ma non è detto, ma non è detto, ma cosa c'entra? Ma non è detto, ma cosa c'entra? Come non è che se sei un giocatore che gioca? Ma cosa c'entra? Ma io ti dico che se io peso l'organico del Milan e l'organico dell'Inter non ci sono 20 punti di differenza. Scusami, hai in campionato. No, per me non ci sono 20 punti. Secondo me sì, perché siccome i giocatori bravi sono quelli che hanno costanza. Allora hai buttato 140 milioni di euro nel Cessi, scusami. Ma io credo che la... Scusa, hai speso 140 milioni, scusa. Cosa li hai spesa a fare 140 milioni per diventare... Sì, ma ha comprato 12 giocatori con 140 milioni. Ma se il tuo amico Pioli ha detto che sei vicino al City e al Real Madrid... E lo ascolteremo. L'ha detto Pioli, l'ha detto. Sì, è vero. L'ha detto Pioli, ho mica detto io. Benasera, l'ha detto di Pelle. Infatti, ognuno può dire quello che vuole. No, però... Allora, sono d'accordo con me. Però il Milan ha speso 150 milioni per 12 gioi... Vabbè, Massimo, se parli solo te, però allora è finita. Magari Pioli ha un peso diverso. Abbiamo perso Tonali. Abbiamo perso Benasser, pronti e via. E la società non è intervenuta. Ne hanno comprato 8 giocatori discreti. E non è venuta fuori una grande squadra. Ugo, perdonami. Secondo me. Però, Ugo, perdonami. Tutti i discorsi sono giusti. Però sono da parte di Massimo nel momento in cui l'allenatore del Milan ti dice che... Lasciamo perdere le prese in giro. L'allenatore del Milan ti dice che sei vicino a City Real e poi prendi 16 punti da lì. Ma l'ha detto come modo di giocare, no? Però, no, attenzione, secondo me... Quando è sparito... No, 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 non come organico. Non l'ha detto come modo di giocare. Come modo di giocare. No, intanto adesso lo sentiamo Massimo. Però io intendevo dire... Guarda, io non c'ero quando ha parlato, quindi ho solo letto, ma non è come ascoltare. Lui parlava proprio del livello perché l'anno... Ho quel passaggio lì, eh. Diceva Giovanna come livello perché faceva riferimento al fatto che il Milan l'anno scorso ha fatto la semifinale di Champions e quindi dice noi come livello, non è che siamo tanto distanti. E poi ci mette il carico Ben Nasser che dice quanti giocatori del Milan possono giocare nel Real e nel City. Quasi tutti, dice Ben Nasser. E quindi ha maggior ragione. Allora, allora... E allora vuol dire che hai fallito. Da quel punto di vista però, ragazzi, Pioli non ha mai detto che non ha... Cioè non si è mai tirato fuori dalla colpa, no? No, su quello sì. Giusto? No, ma infatti ha detto... No, ma infatti Giovanna, scusa... Dimmi, dimmi. Siccome io do credito a un allenatore di Serie A che ne sa molto, ma molto di più di me, ok? Ma io do credito e allora dico, scusami, quando ti hanno messo in mano la squadra, perché hai detto all'inizio dell'anno lotteremo anche noi per lo scudetto? Esatto, infatti, infatti... Scusa, è lui che ha sbagliato. Vero. Ma infatti io, è lì che volevo arrivare. Ah, ok, allora ha sbagliato. È lui che ha sbagliato. Io dico che non ha sbagliato. Ma infatti per quello non è un grande allenatore, perché i grandi allenatori si sanno imporre e dire voglio questo giocatore, voglio quest'altro giocatore. Questo va bene e questo non va bene. Lui invece ha preso il pacchetto. Non so, Ugo, perché l'Ugo si fa tutto il campo, poi il tiro che esce di un niente alla destra di Sommer. E questo è un giocatore molto interessante che l'anno scorso è stato protagonista per la promozione del Cagliari e quest'anno incide nella possibile salvezza della squadra di Ranieri. Qui di sinistro, d'interno, cerca di piazzarla sul palo lontano e per poco non ci riesce. È inquadrato anche Giulini in tribuna che insomma non si è tanto scomposto dopo questo tiro di lungo. No, è stato molto... Però in fondo in fondo. English, British. Sì, lui è stato anche all'Inter, Giulini. Ah, per questo non si è stato. No, no, ci sono state polemiche pesanti tra lui e l'Inter. Adesso non voleva vendere Barella alla Roma, ma Barella disse no. Però io credo che i punti fucali della valutazione di Pioli, poi se ne parleremo ne parliamo dopo, però siano assolutamente tre. Il primo, come dice Massimo, sono stati 140 milioni e sono state sbagliate delle valutazioni a livello di preparazione atletica perché non dimentichiamoci che a dicembre mi ne aveva 15 infortunati. Questo è il primo. La seconda questione è il fatto che... Scusa, Ricch, perché c'è Sanchez in aria che crossa! Marco! Tura! Ticus! Ticus che torna al gol e lo insegnava da Inter salernitana di metà febbraio e torna al gol e il suo undicesimo in campionato, oltre a svariati assist e in doppia cifra anche lì. E quindi la nuova coppia di oggi, Sanchez assist, Turam gol, Inter in vantaggio dopo 12 minuti di gioco. Dalla destra il cross, bella l'imbucata. prima Barella, poi Darmian, Sanchez che va sul fondo, stanno controllando la posizione di Sanchez che sembra partito proprio sul filo e poi Turam che taglia bene. a risultare, a cucire addosso lo scudetto, a stringersi la mano, fare il buffet, i brindisi, guarda il povero Borrelli, tutti i Gagliardini, le cose che ha possibili e immaginabili. No, Gagliardini no. Attenzione alla posizione però. Vediamo, vediamo il Cech. A prescindere dal gol o meno, ha avuto ancora ragione in zaga di mettere Sanchez stasera perché Sanchez fa un grande lavoro ed è quello più in forma dell'attacco dell'Inter. Il gol è valido. Gol è gol, confermato il gol, quindi Sanchez è partito in posizione regolare. Barella, Darmian, Sanchez tutta l'asse di destra, poi il cross tra la sotterra all'indietro per Turam, ma a corrente Turam che non ha problemi a metterla dentro. Inter in vantaggio con il Cagliari 1-0. Mi sembra che continui un po' questo amore folle del popolo nero azzurro verso un allenatore che li sta facendo vincere e giocare bene. Io sono il primo che faccio la mia colpa su Inzaghi perché quando arrivò Inzaghi io ero molto tutubante, lui è cresciuto con la squadra, adesso è un allenatore importante. Però volevo chiudere un attimo il discorso di prima. Sicuramente a livello di infortuni il Milan ha pagato, no Ugo, il fatto comunque di avere giocatori fuori per tanto tempo. Il secondo aspetto sono i derby perché purtroppo a Milano questo è tanto, ma secondo me anche il terzo e più importante aspetto è che fino adesso nelle partite da dentro e fuori Milano ha fatto fatica. Perché con l'Atalanta che comunque era Coppa Italia e è stato eliminato, con la Roma ha giocato una delle peggiori partite degli ultimi due mesi. E quindi diceva giustamente Massimo, è vero, avevi un ginone difficile, però te la sei giocata con il Dortmund e il Newcastle. Però scusa Riccardo, quando parli degli infortunati del Milan, ma il colpevole non siamo nemmeno né io né tu. Ma infatti ho detto... Gli infortunati del Milan, i colpevoli sono coloro i quali hanno fatto la preparazione atletica sbagliando qualcosa perché non è possibile avere 25-26 infortunati muscolari. Quindi credo che lì ci sia sicuramente un mea colpa che deve recitare Pioli. Intendiamo Pioli come staff, le tre colpe secondo me sono queste qua, le tre colpe sono queste qua che verrà valutato alla fine. E allora diciamo così, cosa potrebbe, visto che mi sembra se analizziamo, se ragioniamo così, mi sembra che è solo un miracolo, il miracolo potrebbe essere l'Europa League, che non sarebbe poi tanto persona zero. Il Cardinale ha parlato settimana scorsa. Comunque vi volevo, lo so che Milan fa parlare perché le cose che vanno male attirano sempre di più rispetto a quelle che vanno bene. Però in questo caso, per capire un po' quello che sta facendo l'Inter quest'anno, con questo gol al momento, l'Inter sale a 85, alla 32esima nella storia non era mai successo. Cioè anche l'Inter di Mancini, la Juve di Conte, il record è 84, quest'Inter arriva addirittura a 85, adesso deve tenere questo punteggio, mentre il record assoluto per l'Inter di Mancini è 97, il record assoluto in Serie A di Conte con la Juve è 102, per battere quello l'Inter deve vincere tutto fino alla fine, quindi insomma non è proprio facile. Però insomma è un Inter che vedi, ogni volta che io obbo il rally in studio mi snocciano un record, un traguardo tagliato, una poesia, un momento poetico da ricordare. Per esempio questa è la 32esima partita consecutiva con gol dell'Inter, non era mai successo nemmeno questo, non era mai successo nemmeno questo. È poesia, è poesia. Noi dicevamo tanto l'anno scorso, e chiudo, sul fatto di aver fatto questo percorso in Champions che ha fatto maturare la squadra, l'approccio di questa partita è da grande squadra, cioè tu hai comunque, è vero che hai un obiettivo, però mettere il Cagliaro nella sua metà campo per 16 minuti con quella voglia proprio di, è mentalità, lasciamo il dubbio. Sì. Allora, Fierro, sei con te quest'anno e ti vedo proprio sereno, vero? Seguando la partita non c'è la ansia in tranquillità giustamente. Però la macchia c'è, dai, trovia, insomma dobbiamo anche... La macchia. Per l'amor di Dio. L'Atletico, la serata di Madrid, anzi se vogliamo anche l'Andata, perché l'Inter poteva segnare di passi. Sì, e quella è la macchia, e quella è la macchia. Cioè non c'è stato un demerito di gioco. All'andata l'Inter si è mangiata almeno due volte la palla del 2-0, andare a Madrid con 2-0 sarebbe stato diverso. Però secondo me parte da lontano, Riccardo. Dall'ultima del Girone. Perché con quel Girone non puoi arrivare secondo. Sì, però poi prendi magari il Paris Saint-Germain... No, lo so, però sai già che prendi delle prime e le prime non sono le seconde. No, ecco, diciamo che il tuo ragionamento... Sono d'accordo sul fatto, ad esempio, che magari gioca prima in trasferta che in casa. Se il casa fa il ritorno. Anche, anche. Però Massimo ti posso dire perché... Però con il Girone che avevi, secondo me, non hai fatto un Girone esemplare. Perché, parliamoci chiaro, con la Real Sociedad là, potevi anche perdere. Attenzione, Bastoni che se ne va in dribbling, poi viene fermato, rimane a terra. Ma credo che l'intervento sia stato sul pallone. Infatti, anche di questo avviso furno, Bastoni è rimasto a terra. Adesso magari lo rivediamo, vediamo, vediamo, vediamo un po'. Non lo so se sul pallone. A me sembrava sul pallone, però lo voglio rivedere. Vediamo. Allora, Bastoni si era andato in disini. Si, ha toccato un pallonese. Si, si. Di dipardo, di dipardo. Allora, Massimo volevo dire su questo discorso del Girone. Allora, io sono d'accordo con te che nel Girone l'Inter era più forte. Però, se vai a vedere le formazioni dell'Inter nel Girone, l'Inter era proprio con l'obiettivo principale del campionato durante il Girone. L'importante era qualificarsi, tanto che ha messo addirittura 8 undicesimi diversi in casa del Benfica. Con la Real Sociedad erano in panchina Bastoni, Barella e Lautaro. No, no, ho capito, ho capito, ma c'è anche... Scusami, ma io non ti sto dicendo... Tu stai portando delle attenuanti. Io sto dicendo che, secondo me, la Champions dell'Inter quest'anno è stata una mezza delusione. Sì, sì. Perché, siamo onesti, prima dell'Atletico Madrid si era detto, l'ho detto anch'io, che l'Inter aveva il centrocampo, uno dei centrocampi più forti addirittura in Europa. Sono svolazzati, esempio, paragoni con City, Real, eccetera, eccetera. Poi, però... Sì, sì, ma Massimo, aspetta, ma la mia non era un attenuante. No, no, la mia non era un attenuante. Io sto dicendo che, mentre nel girone lo posso capire in parte, perché comunque la Juve era punto a punto, mentre non do attenuanti all'ottavo di finale. Tra l'altro, se tu vai a vedere il tabellone, l'Inter sarebbe potuta capitare in una partita di tabellone molto più semplice anche quest'anno, perché c'era il Dortmund, non c'era il Real Madrid, non c'era sì. Sì, sì, certo, certo. campionato da vincere. Certo. Però a più 15, secondo me, si poteva fare attenzione a un Real Cagliari in avanti, con il gioco dopo il tiro, la parata di Sommer. E qua la marcatura è un po'... Sì, arrivano un po' troppo facili. È un buco, eh, ragazzi. Qua c'è un buco proprio dalla difesa. Anzi, sì, sicuro. Anche prima, però. Sembrava alla Champions che avessero, allora, prima di tutto, quest'ansia di vincere questo campionato che anche a dicembre gli ha fatto fare in zaghi delle scelte un po' troppo, secondo me, precoce. Sì, però anche le scelte, scusa però Giovanna, le scelte anche nella partita di ritorno. Assolutamente, sì. Perché nella partita di ritorno a un certo momento io sono rimasto, adesso io non lo so se gliel'han chiesto loro il campo, perché non sappiamo mai. Io sulla roba dei cambi prendo sempre una riserva perché una volta io feci una critica, mi chiamò un allenatore e mi disse scusa tu sei andato a criticare me durante una partita non sai neanche che quel giocatore mi ha chiesto il cambio, perché si sentiva un dolorino, che poi quel dolorino magari va via e la partita dopo gioca e tu dici perché l'hai cambiato, ma in quel momento aveva il dolorino, quindi non possiamo mai sapere. Però è certo che a Madrid tu levi Di Marco, levi Mkhitaryan, levi secondo me un po' la struttura, levi Bastoni che non stava facendo una grande partita, però insomma hai levato tre giocatori che sono secondo me tre giocatori importantissimi anche dal punto di vista della personalità e quello potrebbe essere stato un errore anche. Ma assolutamente, ma era come se l'Inter per grazia divina avendo raggiunto la finale fosse ormai una veterana di Champions. Bello il cross per Barella che di testa prova il pallonetto, grandissimo gol! Fuori gioco! Era bellissima però l'idea di Barella che di testa ha provato un pallonetto ed è riuscito a fare il pallonetto, ma evidentemente è partito in posizione di offside, vediamo sulla palla di Di Marco, era oltre, però il gol era veramente bello. Sì. Anche come oggi c'è stato un gollaso di Ciucuese d'esterno-destro, il pallo-gola annullato per un fuorigioco millimetrico anche lì. Più millimetrico di questo. Bella Miki Di Marco, il tiro, la parata di Scufet! Che azione ragazzi, che azione! E continua questo incredibile intercaglieri, ma attenzione, sì c'è l'Inter in avanti poi ho degli aggiornamenti su un Dica. La sciabolata di Cialanoglu per Barella, Cerbi che va in posizione avanzata a creare la superiorità anche ai difensori, ora Sanchez, però il Cagliari è tornato tutto dietro la linea della palla, prima è stato anche evidente il segnale di Ranieri a mettersi a tre dietro a cinque centrocampo con Prati che intanto si è fatto ammonire per uno step on foot, un pestone avremmo detto qualche tempo fa adesso, è codificato in inglese. Ancora Inter che avanza anche se nel periodo non collegato c'è stata un'occasione del Cagliari che è andata in aria pericolosamente al tiro, poi il tiro non è stato precisissimo, ma nell'aria piccola Barella è stato più che non preciso il giocatore del Cagliari, è stato molto bravo Barella a metterci all'ultimo momento il corpo, la gamba per respingere. Ora riprende ancora il late motive della partita, tutto nella metà campo del Cagliari, tutti 21 su 22 giocatori a parte Sommer, col Cagliari che si difende ma non rinuncia a ripartire quando può, soprattutto con il solito scatenato l'Uvumbo. Ora c'è Bastoni che dice c'è un muro davanti, torno indietro, vada Michiterian, gira per Barella, cercano di andare un po' più velocemente, ora Michiterian rallenta e poi magari un'accelerata improvvisa, Bastoni dice torniamo indietro, la Daccia Lanogui intanto il primo tempo sta per finire, mancano 3 minuti più recupero, ora Di Marco sulla sinistra il cross per Turam anticipato di testa, ancora Cagliari che però non riesce a tenere la palla, quindi fallo laterale per l'Inter in zona d'attacco, lo seguirei? E io non ti contraddico Correlli, non oso. Di Marco che la lascia a Bastoni per la rimessa lunga, una sorta di corner dal fallo laterale, Inzaghi che carica i suoi ma dice anche a qualcuno di restare lì, evidentemente di non sbilanciare la difesa e stare attenti alle preventive, Bastoni che prende la rincorsa per il fallo laterale, vuole lanciare in aria, in aria di rigore, vediamo Bastoni, lancio lungo, Bissec non la prende, Gerrimina spizza e può ripartire il Cagliari, attenzione a Lovumbo che riparte dietro Darmian, a Cervi ha fatto bene a rimanere lì dove gli diceva Inzaghi, Lovumbo deve superare, ma già il primo Darmian gli mette il piedone, non si passa, ma Lovumbo ci riprova perché il Cagliari recupera palla e allora ancora un Lovumbo contro Darmian, Darmian respinge ancora, non si fa passare Matteo Darmian, l'uomo tascabile, l'uomo ovunque, multiuso, dovunque lo metti lui sta. Una delle sorprese, insomma, dei grandi giochi. Una delle conferme direi perché ormai sono quattro anni. Prezzemolo Darmian, assolutamente. Proprio col Cagliari segnò uno dei gol scudetto con l'Inter di Conte, Inter-Cagliari-Inter-Verona di quell'aprile 2021, ancora Cagliari, ora sulla destra ci prova, ma l'Inter ha recuperato le posizioni, fa girare il pallone con Mancumbu e Sulemana, Sulemana ha spostato un po' più sulla destra, ora ancora giro palla anche con il difensore greco che oggi un po' a sorpresa, Azi Diakos è stato scelto da Ranieri per comporre la difesa a tre e girano tutti e tre i difensori. Gerimina ora si va a sinistra, il cross al centro di Obert respinge ancora l'Inter, ma recupera ancora palla il Cagliari sulla sinistra. Dimmi tu quando devo dire. È una partita con ritmi adesso abbastanza sostenuti e alti, il cross pericoloso Di Marco che con il piedone, fallo laterale, Di Marco riesce ad allungarsi, a deviarla in fallo laterale, lì era pericolosa la posizione. Io sarei uscito, e Sommer poteva anche fare un passo in più. Il Cagliari di Pardo alle sue spalle che era pronto. Era larga. Sommer si, se c'ha una lacuna. Era larga la palla. Era un po' larga. Era larga dai. Sulle uscite, volevo dire, se no non si capisce magari da casa. Sulle uscite, lui diciamo non è altissimo tra i pali, molto forte, molto bravo anche con i piedi, ma nelle uscite diciamo che non è proprio sicurissimo. Attenzione ancora al Cagliari. Palla in mezzo, ora Cervi, gioco fermo. Pallo su Di Marco credo. ultimo minuto del primo tempo, tra poco sapremo il recupero, che sicuramente ci sarà. Qua dove uscire? Qua sì. Qua sì, questa era sua. Nella realtà piccola deve uscire il portiere a prenderla. Ragazzi dai. Allora no, io vi davo una insomma una bella notizia a conferma di quanto detto in apertura, cioè pare veramente che Indica abbia rassicurato i suoi compagni e pare non sia stato un infarto. Il codice giallo faceva già ben sperare che non ci fosse il pericolo di vita e quindi gli accertamenti siano dovuti al fatto che giustamente uno voglia capire come mai. E pare anche che questo dolore al petto e sicuramente questa anomalia nel cardiogramma possano essere stati scatenati da un colpo al petto che aveva preso, insomma un colpo di gioco e quindi tutto questo abbia potuto magari mettere in moto un malessere che già era latente. Comunque insomma questo è, non è in pericolo di vita. Vi confermo quanto detto in apertura, meno male perché insomma attimi di terrore e chiunque abbia visto quelle immagini ovviamente, così come i suoi compagni che non hanno voluto proseguire gli avversari, la partita sono rimasti tutti sotto shock. Sospiro di sollievo. Caro Borrelli, tu vai avanti in cronaca perché... Un minuto di recupero, sono passati. Stiamo da te, vai. Sono passati ormai 40 secondi, quindi ultimo tentativo dell'Inter in questo primo tempo con Cialanoglu che sventaglia per Di Marco, un po' troppo lunga, vediamo se Di Marco ci arriva. Sì, ci arriva, stoppa la palla, gli arriva il difensore a cercare di... Anzi, Sulemana che cerca di contrastarlo. Centrocampista del Cagliari, ora arriva il raddoppio di Di Pardo, ma Sulemana ha la meglio e quindi però credo che sia finito qua. Sì, finisce il primo tempo, 1-0 per l'Inter, il gol di Turam sull'assist di Sanchez e la bella verticalizzazione di Barella e di Darmian sulla fascia destra. Cross, basso, rasoterra di Sanchez che trova Turam molto bravo a inserirsi, a mettere alle spalle di Scuffetti il suo undicesimo gol stagionale in campionato, uno in Champions, 11 assist, autogol procurati, insomma, un giocatore che quest'anno aveva fatto benissimo fino alla metà di febbraio, poi si è fatto male, ha avuto un calo evidente e adesso sta dando segnali, insomma, di ritornare il Turam che abbiamo conosciuto, quello che è in velocità, in dribbling. È una flessione, ragazzi, è anche umana. Può essere fisiologica. Ecco, può essere solo. Che era uno dei problemi che dicevamo a settembre, cioè il fatto di non avere delle alternative davanti di un certo livello, perché Arnauto ci si è fatto male, Sanchez è arrivato un po' così spaisato, era una delle problematiche, nel senso che dovevano sempre giocare loro due. Invece è stato determinante. Sì, ci sta che poi magari, in un peraltro, Lautaro non segna da, mi sembra, un mese e mezzo. Da 28 febbraio Inter-Atalanta, sì. E Turam veniva anche da una... Però la squadra c'è, insomma, io dopo negli up and down volevo fare un plauso a un giocatore, ma aspetta Michele, sì, perché veramente mi ha colpito. Ho solo una domanda, perché poi non ci siamo più incrociati, Massimo, non quanto tu abbia scommesso con Corina, questa è una domanda che mi è rimasta, ma te la farò in separata sede. No, la partita di Champions con l'Atletico Madrid, il ritorno specialmente, ti ha fatto cambiare idea in qualche modo sullo spessore europeo di Lautaro Martinez, lo spessore come campione assoluto con la C maiuscola a livello, insomma, dei grandi. Non è una partita o due o tre partite che possono, diciamo così, spostare il giudizio complessivo su un calciatore delle qualità di questo attaccante, che ha dimostrato di essere di qualità mondiale. È certo che, purtroppo, è capitato che è venuto meno quest'anno in Champions, perché probabilmente sono mancati proprio i suoi gol. Non solo, diciamo così, negli ottavi di finale. Io mi aspettavo sicuramente qualcosa in più, ma anche nel girone di qualificazione. Però può capitare, quando io ho sempre detto, ha detto bene prima Michele, ma io ho sempre detto che la Champions è una competizione di dettagli, i dettagli che sono costati caro un anno e mezzo fa, due anni fa, al Manchester City con Real Madrid, se vi ricordate bene. Cioè, una squadra che era già praticamente in finale è che a due minuti dalla fine si è capovolta la qualificazione. Quindi io credo che, essendo fatta di dettagli, a volte i dettagli poi spostano tutto, ma non il giudizio, non il giudizio e il valore dei singoli giocatori. Chiarissimo, Massimo. Allora dai, siamo pronti. Rullo di tamburi, up and down, sigla! Vai Borrelli, vai! Cioè, se mi metti tre peggiori, non so, tre giocatori con voto sette, io ti veramente ti. No, i peggiori, ragazzi, i peggiori. Vediamo cosa faccio. Perché puoi anche non metterli, a volte insomma... No, infatti sarò rapido, perché metto, io dico spesso come il televideo, sette, sette, sette. Voglio dare tre sette, uno per reparto, poi meriterebbero in tanti. Poi vediamo se c'è in uno di questi tre quello che aveva fatto riferimento Riccardo. Allora, secondo me è in un momento proprio a livello fisico, e questa è una buona notizia per Spalletti, eccezionale, Barella, che a livello fisico corre ovunque, raddoppia, si inserisce. Molto bene stasera. Sì, ma è un mesetto e mezzo già che è così. Sempre così ultimamente. Mentre invece Mkhitary e Cialanoglu, che avevano fatto benissimo fino a febbraio, poi hanno avuto un mesetto di calo. Quindi Barella sette. Poi metto sette anche a Sanchez, che secondo me quando si dice che gli attaccanti le riserve dell'Inter non sono state all'altezza, secondo me c'è un po' da distinguere. Arnautovic non pervenuto praticamente mai. Aveva avuto due infortuni da un mese e mezzo. Quando ha giocato si è mangiato gol assurdi. Sanchez invece ha avuto una prima parte, come diceva Riccardo, in cui non aveva fatto la preparazione. Ha giocato veramente pochissimo. Poi da gennaio in poi, anzi, nella prima parte aveva fatto un paio di gol in Champions dove ha giocato titolare. Solo lì aveva giocato e aveva fatto un paio di gol. Da gennaio in poi ha iniziato a fare gol assist in quelle poche volte che è stato chiamato in causa. Ha fatto l'azione decisiva del gol della Supercoppa con Lautaro in finale. In campionato adesso questo è il quarto assist con due gol. Non sono numeri eclatanti, però qualcosa l'ha fatto. No, ma poi è tornato in diretto, recuperato, contrastato. Secondo me è ingeneroso mettere Arnaldo e Sanchez nello stesso gruppo. Cioè sono due campionati, due stagioni diverse dei due. Quindi Sanchez gli do anche il 7 che ha fatto l'assist e poi per la difesa con Varelle e Sanchez metto Bissek che è un giocatore che quest'anno veramente all'inizio dell'anno era un punto interrogativo totale. Oggi possiamo dire che uno che quando manca Pavarce e Bissek non è che cambia più di tanto. Anzi è un giocatore che di testa spinge molto. Quindi con le piccole ancora di più hai questa possibilità di avere uno in più davanti, di avere la sponda, di avere il colpo di testa. Un metro e novantasei è un gigante. Quindi 7 anche a Bissek, chi dà uno non ci sono. Sei d'accordo su questo? D'accordissimo, ma... Anche di Marco però. Anche di Marco mi direbbe, sì. Però volevo dire, Bissek... Scusate se mi metto in mezzo... Fai come vuoi, non c'è problema. Stavo dicendo, Giovanna, Bissek è uno che spinge molto. L'azione a sinistra, lui a destra, si butta e va a colpire la palla di testa o si butta dentro la mischia. È una cosa incredibile. Ed è difficile da arginare fisicamente. Esatto. Ha proprio questa fisicità. E poi quando ha palla al piede, parte e va. Non ha paura di fermarsi. Quindi questo vuol dire che ha anche personalità. È vero che Inzaghi l'ha aspettato, perché all'inizio, ragazzi, ricordiamoci che non ha mai giocato questo ragazzo. È stato bravo Inzaghi, bisogna dire la verità. Infatti lo fa farlo crescere. La stessa cosa la sta facendo con Buchanan, secondo il mio punto di vista. Infatti sono molto curioso. Chi era l'uomo? Chi era? Era Sanchez. Era Sanchez perché l'ho visto svariare su tutto il fronte d'attacco e un paio di occasioni sono ripartite perché lui è venuto a centrocampo a recuperare il pallone, in scivolata, mettendoci la gamba. Sì, diciamo che quella è la sua caratteristica. È un giocatore che avevamo notato infatti quando Michele è arrivato che ultimamente dei quattro davanti è sinceramente quello più forte. È quello più forte. Lasciamo stare che oggi Turam ha segnato, però è quello che ha dato qualcosa in più da subentrante. Anche Darmian stasera mi sta piacendo. Ma è la classica partita dove non puoi buciare nessuno. C'è qualcuno meno brillante che mettereste, che poi i bocciati può essere anche un 6. Qualcuno sotto tono, forse. Forse Sommer, quelle due uscite nell'aria piccola. L'atteggiamento dell'Inter è quello giusto dall'inizio. Si vede che vuole cercare il raddoppio. Oggi ho rivisto anche le sventagliate di Cialanoglu che non vedevamo da tanto tempo. Come ha detto Ugo, Di Marco e Michiderian meritavano anche loro di entrare nei migliori, però dovendone scegliere tre. Finendo il discorso Pageli, devo dire che io avrei dato un mezzo voto in più a Barella per distinguere rispetto agli altri due perché è vero che sta facendo una grande partita. Ma ricordiamoci, il tiro al volo che Parascuffetti e il colpo di testa sarà il fuorigioco. Il tiro al volo se entra, non è fuorigioco per intenderci. Se Pellegrini sta facendo con De Rossi e Barella è questo. Agli europei stiamo ricostituendo un centrocampo niente male. Se Scamacca come a Liverpool inizia a segnare troviamo l'attaccante all'ultimo. Spalletti sorride, Massimo. Stanno andando in forma nel momento giusto le pedine giuste per un europeo che ormai è alle porte. In effetti Scamacca si è sbloccato. Barella è una certezza. No, no, sì. Sì, sicuramente c'è ancora da lavorare tantissimo perché io ho avuto anche la fortuna di incontrarlo Luciano qui a Forlodede. Sono andato a incontrarlo. Mi ha fatto passare un'ora e mezza, due ore splendide perché mi ha fatto entrare nella saletta dove stavano con tutto il suo staff, con Valdini, Domenichini, Russo, Pane. Non ne voglio dimenticare neanche uno, lo stesso Gigi Buffon. Mi ha fatto seguire l'analisi, il match analyst che hanno fatto sulla partita col Venezuela. Però da quello ho anche capito che insomma c'è parecchio da lavorare perché ci sono dei giocatori che comunque i giocatori, ricordiamoci, non sono delle figurine. sono abituati a giocare nei loro team, nei loro club in un certo modo. E naturalmente Luciano quando mette giù la squadra vuole che giochi nel modo in cui predilige lui. E quindi ci sono per esempio dei movimenti che sono... Ti parlo solo per esempio dei difensori centrali che in quel caso erano Scaldini e Buongiorno che facevano sicuramente dei movimenti dettati da quelli che fanno nei club con Iurice e Gasperini e che magari con Spalletti devono fare dei movimenti diversi. Quindi io ho capito che c'è ancora tanto lavoro da fare perché speriamo che abbia il tempo di farlo prima dell'europeo. Ecco Massimo, scusa, ma io ho una domanda tira l'altra con te perché poi mi incuriosisco se puoi dircelo, se ne avete parlato. Ma questa storia della PlayStation e questo codice, il codice spallettiano, cos'è? Com'è stato recepito dalla squadra? No, allora ti dico la verità. Io tra le altre cose sono andato lì che loro avevano queste due ore di analisi video e io ancora lo ringrazio pubblicamente che mi ha fatto veramente un grandissimo regalo perché entrare all'interno del suo staff in questa cosa molto dettagliata e molto riservata perché poi dopo le due ore sono entrati i giocatori e io sono naturalmente uscito quando sono entrati i giocatori e sono stati ben bene strigliati perché ha fatto vedere tutti gli errori che sono stati fatti eccetera eccetera. Ho visto che il lavoro è dettagliato, ti assicuro che Luciano è anche uno che guarda tantissimo il comportamento fuori dal campo, il comportamento tra virgolette nelle camere e quindi... È tutto vero. Sì, sì, è vero perché è uno che guarda tutto. Attenzione, è uno da quel punto di vista è vecchio stampo, come quelli con i miei allenatori che venivano a bussare in camera o mi telefonavano a casa perché all'epoca non c'era il cellulare e mi chiamavano per vedere se ero in casa. Quindi oltre alla classe perché comunque... Attenzione, attenzione! Attenzione al Cagliari in avanti Shomurodov gollo del Cagliari! Arriva il pareggio del Cagliari al sessantaquattresimo che scocca proprio adesso. Il tiro di Shomurodov che stava andando bene. Ride, ride Ugo, ride. Ugo, guarda che ci basta lo stesso poco di fatto. Ma niente, no, pensavo a un'altra cosa. Questa risata in faccia non me la dovevi fare. Mi piace. Non me la dovevi fare. Che dormita, ragazzi, però. Che dormita, mamma mia. E volevate l'insufficienza? Certo. Questo perché? Perché sei entrato in campo molle. No, ma qua è proprio, secondo me, una marcatura che non va. Allora, la palla da sinistra, il lancio centrale, l'Uvumbo quasi di tacco e qua Cervi e Bastoni non chiudono sull'uomo. No, è stato Bastoni che arrivava da dietro. Eh, ma tutti e due. Ma doveva? Anche a Cervi su L'Uvumbo. L'Uvumbo, non so se l'ha fatto apposta, se l'ha fatto apposta è veramente geniale, ma anche se non l'ha fatto apposta, comunque è stato bravo a tenere la palla lì, pronta per far tirare Shomurodov. Bastoni troppo lontano dall'Uzbeco. Tiro forte, centrale. Forse anche Sommer qua poteva fare qualcosina in più, perché il tiro era forte ma centrale. Però gli è passato sotto le gambe. E quindi abbiamo visto lo stesso film contro il Napoli, ma col Napoli era alla fine e l'Inter era calata. Qua non siamo alla fine, c'è tutto il tempo e quindi vediamo di ripartire subito forse. Cosa Massimo? Stai rivedendo il gol? No, per me non poteva fare niente Sommer. Gli ha tirato una fucilata da dentro l'area e li è passata pure in mezzo alle gambe. Sì, fatti, fatti. Ragazzi, ma non è la PlayStation. L'ha anche toccata, tra l'altro. L'ha anche toccata. Da 10 metri neanche, 7 metri. Sì, ma poi li passa in mezzo alle gambe. L'Inter è una fucilata... Cioè, doveva essere veramente mandrake per prenderla. Con i piedi alla garella, con i piedi alla garella. Bravo, bravo. Con i piedi alla garella, sì. Quindi togliamo Sommer dai responsabili, rimane la dormita... Più bastoni di acerbi, però la coppia, insomma, tutti e due. E' peccato perché l'Inter insegue anche questi record sul clean sheet che oggi non arriverà. Resta a 19 l'Inter in campionato, il record è 21. Così come Sommer, che ha eguagliato il suo a 17. E anche per un portiere 21, quindi un po' diventa difficile. Di Marco, attenzione, il cross. Colpo di testa di Sanchez, che per poco non prende l'angolino. La indirizza bene, non forte. La palla molto angolata. Esce veramente di un tanto così. Bell'azione di Barella e... Alla sinistra di scuffette. Bravo qua Sanchez di testa. Peccato la palla esce. Ragazzi, il gol è una dormita, eh. Perché gli fa la sponda di testa e nessuno che... Credo non di testa, forse proprio con la... Con il tacco. Con il tacco. Con il tacco. Allarga la gamba. Però non può arrivare al tiro. No, no. Shomurodov è... Ripeto, Bastoni è troppo distante da Shomurodov. Ma non distante perché era fuori posizione. Era scarica. Perché non è aggressivo nell'accorciare sul giocatore vicino a Luvumbo. Magari si aspettava che Luvumbo facesse un qualcosa di diverso. Adesso è entrato però l'uomo della provvidenza, Davide Frattesi. Ricordiamo l'Inter per avere due risultati su tre nel derby lunedì prossimo deve vincere oggi. Se invece pareggia resta più 14 e poi deve vincere per forza per essere matematico lo scudetto il 22 aprile. Beh, sicuramente, insomma, come hai giocato il primo tempo... Ma vi state ancora preoccupate? Sì. No, no, però... Io sì. Vincere, vincere è bello. Senti ridicoli, c'è la gente che ci guarda a casa, i bambini... Ma per che cosa dici? Per lo scudetto. Per lo scudetto. No, per me. Mi piace fare il più record possibili. Cioè lui vuole il record e quindi punta il record di Conte per vincere tutte. No, Massimo. No, ma poi sai, c'è l'Inter adesso... No, arrivo perché ha detto ci sono i bambini a casa. Eh, certo! Certo, non si può dire di tutto. Questa cosa è una cosa gravissima. Ha detto Piero che ha paura, no? Comunque adesso... Adesso male, eh. Adesso stanno giocando male. Comunque Fusato è arrabbiato. Eh sì, ha ragione. Adesso male, adesso... Vero? Ci siamo abbassati troppo, ci partono dietro, ovunque dall'inizio della partita che dà fastidio lì. Dai, forza! Inter che parte adesso con Cialanoglu per Sanchez, alza la testa il cileno, tiene la palla, supera in dribbling il primo avversario che... Dagliela! ...Makumbu, anzi Sulemana, scusate. Supera Sulemana, avanza. Ora la dà Darmiana sulla destra il cross. Fra te si mette la testa ma non riesce a prenderla. E quindi il Cagliari spazza, la riprende Sanchez che ora cade un po' nel servire Barella. Barella, Barella per Bastoni. Bastoni alza la testa, vediamo se crossa da lì. Può farlo, no? La dà lungolinea per Sanchez che è anticipato da Gerrimina che si arrabbia un po' con chi? Con i compagni? Sì, forse con un compagno che non marca con la grinta giusta, con la fascia da capitano. Ci sta mettendo l'anima il colombiano, ora ancora Inter, che deve riprendere un po' il filo che ha perso in questo secondo tempo. Troppo entusiasmo, troppo... Troppo entusiasmo, troppo... Ma no, ma perché comunque anche quando sei in gestione, ma se sei in gestione con un gol di scarto, fai una fesseria dietro e segna. Attenzione, Turam che di testa sul cross da sinistra non riesce a indirizzare ancora verso la porta d'Armian che prova a crossare dall'altra parte. Io metterei qualche altra forza fresca a questo punto. Chi hai? Chi hai? Dunfris? Dunfris a destra. Non c'è Lautaro, Arnautovic ce n'è che mi fido poi. Beh, Buchanan. Buchanan, infatti. Eh, forse Buchanan ha ragione. Darmian l'ha rimessa in mezzo all'aria, respinge ancora Gerry Mina, rimessa a lunga di Darmian, ma trova la testa del difensore centrale del Cagliari che adesso nel secondo tempo sta un po' respingendo di tutto, di testa, e il Cagliari ora recupera la palla sulla propria tre quarti e prova a lanciare in avanti per Shomuro, dove che uno contro due Acerbi lo ferma per un attimo, arriva Luvumbo, poi anche Di Marco sulla palla, Di Marco in fallo laterale, settantesimo, ne mancano solo 20 e l'Inter non è più in controllo come sembrava prima. Una brutta Inter adesso. Ecco, dobbiamo insomma definirla con quello che merita. Quello che si vede nel campo, una brutta Inter. Ecco, ma ci sta un calo di tensione. E da un paio di partite che la tensione non c'è più come prima. Sì, infatti, non c'è più. Tensione Inter che recupera palla con Turam, se ne va Sanchez, ma ne ha troppi di uomini di fronte. Allora temporeggia, torna indietro, distribuisce per Cialanoglu, si allarga Di Marco. Il Cagliari però è tutto ben posizionato dietro la linea della palla e allora l'Inter la deve far girare da sinistra verso destra. Avanza anche Bissec, i centrali che sono stati spesso un'arma, andare a portare via gli uomini e gli attaccanti. Ora c'è Darmian per Frattesi sulla destra, ancora sulle mana. Uovo ovunque che respinge in calcio d'angolo, dice l'arbitro e il guardia linee. Si arrabbiano i giocatori del Cagliari perché dicono sì, io ho respinto, ma su di lui. In effetti aveva ragione sulle mana perché respinge sulle mana, la palla rimbalza di nuovo su Frattesi ed esce. ha visto male l'assistente, ma il VAR su queste cose non c'è. Io trovo scandaloso per il protocollo in questi casi, se la palla è fuori e tu hai uno che sta guardando tutto fuori, mi comunica la decisione giusta, ci vuole tanto. Invece dopo sette anni non ce la fanno a fare questa modifica. Non c'è anche il Milan-Roma. Pensa adesso se facciamo il gol, pensa un po'. Calcio d'angolo, calcio d'angolo per l'Inter, batte Cialanoglu, palla che va in aria sul primo palo, respingono ancora i giocatori del Cagliari, poi l'Uvumbo che spazza via nella terra di nessuno, palla che arriva addirittura all'altezza di Sommer, che esce fuori dall'aria e fa ripartire subito l'azione. Ora l'Inter che va in avanti, anche perché vuole comunque accontentare il pubblico che sta anche spingendo. Abbiamo detto prima la giornata degli Interclub arrivano un po' da tutte le parti d'Italia. Frattesi, attenzione, il corpo di mano, vediamo se c'è questo calcio di rigore per l'Inter. Mi è sembrato anche abbastanza clavoroso, nel senso che il braccio largo staccato dal corpo, vediamo un po' un replay per capire bene se l'impressione era quella giusta. Frattesi di testa, Gerry Mina credo che non vada con la volontarietà, voglio andare di testa, però un po' come Ebram in Europa, anziché puoi prendere Lautaro dalla tribuna, mano, mano, mano. E Ranieri che si dispera, abbassa la testa come per dire avevamo fatto la cosa più difficile. Chi tira? C'ha la Noglu sul dischetto, l'uomo dei record da questo punto di vista. Attenzione perché c'è un triplo cambio. Dunfris, Carlos Augusto e Arnautovic pronti ad entrare. Calcio di rigore. Sono dei rigori... Eh, Massimo? No, è una regola ridicola. Non è solo dei rigori, è una regola ridicola. Scusate, ho fatto il difensore, qualche volta ho saltato in aria. Non puoi non saltare così. Ma ragazzi, ma come fai a saltare o non aprire il braccio quando vai per proteggere la tua zona? Come fai? Ma una volta non te li fischiavano mai. Ma io... Danno per Mina per proteste. Hanno fatto fare le regole a gente che sta col culo sulla sedia e non ha mai messo un paio di scarpini. Gerry Mina la pensa come te, Massimo, si fa ammonire perché continua a protestare. Dice io come devo fare? Eh... Sì, poi vedi magari in Mila Roma... Così. Però vedi per esempio... Io vedo spesso De Vrij, che è quello che più di tutti lo fa proprio... che è in posizione anche abbastanza innaturale. Ogni volta, come entra in aria di rigore, subito, prima cosa, mette le mani dietro e diventa difficile difendere con le mani dietro. Poi tra l'altro è girato, la palla non la guarda neanche, quindi... No, è proprio largo. Sì, ma anche se è largo se è palla in attesa. È girato di spalle, la palla non la guarda mai. Cialanoglu contro Scufet, settantaquattresimo minuto. Cialanoglu che ha segnato a Udine il suo quindicesimo rigore con la maglia dell'Inter, quattordicesimo in Serie A, e ora ci riprova. Parte Cialanoglu, tiro... Goal! Goal! Via Cannes! Il Sultano riporta l'Inter in vantaggio, undicesimo gol per lui in campionato, e guaglia il suo record. Cialanoglu, Inter in vantaggio, 2 a 1 per l'Inter, e fa 16 su 16 con l'Inter, quindicesimo rigore consecutivo in Serie A, gancia Ibraimovic, davanti a lui solo Pazzini, a 16 in corsa anche per quest'altro record, e ora bacia la folla nerazzurra a San Siro. Anche Onara, eh, c'è Onara in tribuna, ragazzi. C'è anche Onara. C'è Onara, l'ho visto adesso che festeggiava. Un po' nostalgico è tornato. Niente, lui ha questo calcio ad uscire, che è imparato. Ah, scusate, la tocca? Sì, non la pigli mai. Sì, non la pigli mai. Lui vira un angolo da una parte, dall'altra. Non la pigli mai. È talmente angolata che... Comunque, ragazzi, dico la mia, questo qua non è mai calcio di rigore. C'è rigore per le regole, ma non è un rigore. Questo è un rigore... Sì, sì, no, parliamo di regole e rigore, però si gira quello lì, lo tocca col braccio largo. No, però questo qui è un rigore che nella casistica è il più netto. Cioè, perché c'è proprio... Sì, sì, braccio largo. Io credo che la valutazione da fare è quello che non hanno dato al Milan. Stiamo parlando di regolamento e non d'accordo con te, però lui non guarda neanche la falla. Si gira... Scusate, il triplo cambio. Dunfis per Darmian, quindi esterno destro per esterno destro, facile, l'avevamo anche invocato. No, vabbè... Ma io, insomma, non è che do tutto questo valore a questa partita. Cioè, secondo me questa è una partita più per i tifosi, mi sembra più una passerella. Io ho notato una cosa, però, ma non voglio mettere... Non voglio mettere zizzagna, perché poi lo studio è tutto interista, quindi metto un po' di zizzagna su. Tutto no. Esatto. Ugo diventerà interista stasera. È quasi tutto. È quasi tutto. Credo che ci sia. Che ci sia. Io ho intravisto, poi me lo sapranno dire meglio dalla redazione. Ho intravisto Infantino, il quale poi mi ha fatto pure l'esame di agente FIFA nel 99, festeggiare al gol dell'Inter. Io credo che non sia molto carino. E non sia molto etico. Sì, ho capito che è interista. Scusami, scusami Borrelli. Ho capito che è interista, ma magari evita, secondo me, di presentarti a San Siro di fianco alla dirigenza dell'Inter e festeggiare come se fossi un tipo... Attenzione al Cagliari. Pericolo il gol del pareggio. Ancora il Cagliari che la riprende con il Leo entrato. Viola. Erano appena entrati. Viola, Lapadula e Zappa per l'Umumbo. Scioguro, Don Vendipardo. Sì, ma non si può difendere così. Viola che aveva segnato anche nell'ultimo turno il 2-1 con l'Atalanta. Ancora lui. Ancora un gol simile. Una palla buttata lì in area di rigore. Visek di testa l'allontana. Arnautovic molle, molle, molle sul difensore che la rimette in avanti. E poi un assist quasi involontario di Lapadula. Col braccio, ragazzi. Questo è il gol da annullare. Questo è assist col braccio. Mi dispiace, ma non si può fare. Adesso il VAR deve per forza intervenire. Vediamo. Eh, questo è un fallo di mano. Eh sì. Perché assist e il gol non si possono fare col braccio. Eh no. C'è l'immediatezza famosa. Braccio sinistro, braccio sinistro. Però, boom. Vediamo, vediamo. L'Umumbo nell'assist del gol è stato secondo me bravo col piede. Qua invece era veramente fortuito, involontario. Cioè non è un assist voluto. Ma c'è il check? Però stanno prendendo il pallone. Ma questo è una svista. Eh eh. Però non c'è neanche un check. Cioè di solito il check check. Infatti anche l'esperto arbitri di Dazon dice secondo me andrebbe insomma il gol è stato convalidato. Incredibilmente convalidato con l'assist di braccio di Lapadula che allarga l'alettone. Involontario, eh. Involontario. Ma non conta la volontarietà. Ma, involontario non lo so. No, e non la vede proprio perché arriva da dietro. No, no, la vede, la vede. Con la coda dell'occhio la vede. Questa è nuova. Tu purtroppo ti dici di poco, ma è così. Strano. Beh, oh. Qualcuno, qualche maligno direbbe primo torto arbitrale a fronte di tanti. No, no. Non è vero. Eh, come no. Ce ne sono stati altri? Sì, sì. Ce ne sono stati. Poi a volte sono nascosti dalle vittorie. 4-0. E certo. Ognuno ce l'ha fatta bene. Comunque la difesa male ancora, eh. Male ancora. Come il primo gol, più o meno, eh. È uguale, sì. È molto simile. Attenzione ora al Cagliari che riparte. Cagliari che attacca ora con la Padula. Tanti attaccanti anche freschi come la Padula. C'è Viola che è un centrocampista offensivo che ha messo ancora una volta lo zampino in questa che è una possibile, sempre più probabile, salvezza del Cagliari che prima giustamente Massimo diceva non è che è una partita che conta tanto, ma per l'Inter, per il Cagliari conta tantissimo. Sì, è vero. Sono adesso a 31 punti. È vero. È vero, Michele. Lo so perché ho due miei amici cagliaritani. Tu sai che ci vedono anche in Sardegna che mi stanno seguendo. E mi hanno fatto notare questa cosa. Quindi chiedo venia ai miei amici. Sai, Giovanna, che io ho casa lì. Scusa, Frattesi in aria. Frattesi che la dà lì indietro. A chi? A chi? A chi? Di Frattesi. E se ti metti pure tu a sbagliare, attenzione, ora contro piede del Cagliari, uno contro uno, la padula contro Cerbi. Arrivano i rinforzi, arriva anche Bastoni. Inter distratta in questo secondo tempo in difesa. Mamma mia, ragazzi. E ora il tiro di Ciomuro, Dom, che va fuori di un niente alla sinistra di Sommer. Partita un po' strana per quanto riguarda la fase difensiva dell'Inter che si è fatta uccellare in due occasioni in modo banale. Prima abbiamo detto la coppia Cerbi-Bastoni, soprattutto Bastoni che hanno accorciato. Adesso invece, dopo il rinvio di testa di Bissek, parla rimesso in mezzo e non ci sono due giocatori su Viola e la padula. La padula sì, c'è uno, ma non c'è nessuno. E ora Carlos Augusto va a fare il difensore al posto di Bastoni. Entra Giugana. Adesso c'è bisogno di segnare. E questo è anche un segnale di Inzaghi che vuole assolutamente vincere la partita. Dunfris che punta l'uomo. Attenzione il cross, nessuno che però ci crede. Arnautovic che resta fermo. Dorme, dorme ai piedi. Il passaggio è lungo. Ho capito, ma devi andare dentro. Devi andare dentro. Devi andare dentro. Però lui resta lì dietro a guardare. E adesso iniziano a prendere tempo. È veramente entrato con una... Comunque spezzo una lancia, perché tu hai detto che per l'Inter non è una partita che conta. Poi so quanto... Sì, sì, sì. Dai, è giusto. Agli atti è questo. Per il Cagliari è... Per il Cagliari, e ti dico la verità, per le squadre che lottano per retrocedere, tifano tutti per l'Inter. Eh sì. Il Frosinone, il Verona, l'Udinese, l'Empoli, sono tutte per l'Inter oggi. Comunque sapete chi c'è al VAR? L'ho detto all'inizio ma non lo voglio ripetere, perché è stato protagonista tutto l'anno di errori clamorosi. Di bello. Di bello quest'anno ne ha fatto di tutti i colori. Ma bisogna capire se è il VAR che non è... Sì, è il VAR che non è intervenuto. Perché l'arbitro non è che puoi vedere beh, è difficile. Certo. Però il VAR, questo è proprio quegli episodi tipo step on foot, cose codificate, braccio largo, eccetera. Ma è Infantino che... No, ecco, su Infantino perché poi siamo arrivati al senso spesso. Allora, oggi è una manifestazione della Federazione Italiana che è affiliata alla UEFA. Cioè il presidente FIFA secondo me, non lo so Massimo, secondo me non è proprio diciamo parte in causa. Sì, il calcio è tutto sotto la FIFA, questo è anche vero. Tu devi essere un po' il presidente di tutti, dai. Insomma, Infantino è il capo di tutto. Sì, è il capo di tutto. Cioè, penso che ci sia un modo per ti fare una squadra meno, diciamo così, appariscente secondo me. Ah sì, sì, io poi tra l'altro non l'ho vista l'esultanza. Se voi l'avete vista molto, io non l'ho proprio vista, quindi... No, no, c'è il video, c'è il video. Ah, ok, ok, ok. E esce Azzia. Me l'hanno mandato i miei tifosi del Cagliari. Sei in filo diretto tu ormai, ti stai già preparando. Quello che voglio dire è che la FIFA non è che, diciamo, è sopra il campionato italiano. No, ma non voglio metterci, è una questione di opportunità. No, no, ma questo ci sta. Ha ragione Massimo, sei un dirigente di quel livello lì. Sei anche tifoso, ci sta, lo fai vedere in un altro... Pubblicamente no, sono quelle cose che dici, la classe dov'è il sapersi comportare? È questa, insomma. Poi rimane il tuo essere tifoso, lo fai quando sei a casa tua, l'esultanza plateale, insomma. Allora, detto questo... Intanto, ultima sostituzione. Vietesca al posto di Azzidiakos, quindi il polacco al posto del greco. Mancano due minuti esatti, più recupero. Punizione per l'Inter sulla trequarti, Turam subisce fallo. E quindi punizione per l'Inter che proverà adesso a vincere la partita. Ma il Cagliari, attenzione, in contropiede a giocatori freschi che già hanno dimostrato di poter far male. Comunque devo dire anche complimenti al Cagliari, perché sa soffrire, rimane aggrappato alla partita. È stato proprio rimanere in partita. E poi c'ha questi giocatori davanti che si alternano e trovano sempre... Una volta Pavoletti, una volta Lapadula, una volta Sciomuro, dopo... Ce ne ha tanti. Oggi non c'è Oristanio, Gaetano non è partito all'inizio. Tra trequartisti attaccanti ne ha veramente cinque, sei che fanno a turno male. Complimenti a loro e complimenti anche sempre a Ranieri che è un grande della panchina. Punizione per l'Inter. Ancora palla di Carlos Augusto di testa che cerca di rimetterla in mezzo. La palla però non arriva. Ora Biucanana conquista un pallone e quindi l'Inter può ancora alimentare le speranze. Con un minuto e dieci il Barella che però non ce la fa più evidentemente. Su qua, come dice una Milano. La palla che va fuori, inquadrato Lautaro in tribuna, un po' rattristato. Ha esultato tanto sul calcio di rigore perché l'Inter ci teneva a vincere. Ci tiene, non ci teneva perché è entrato Biucanana adesso. Vediamo. Però i giocatori del Cagliari io rogono un po' di esperienza. Gerry Minas si butta a terra, crampi. Scusami, fate risentire la risata Conti. Com'è la risata Conti? Te la faccio sentire tra due minuti. L'Inter nel girone di ritorno ha vinto 11 partite e pareggiato una con il Napoli. Quindi questo sarebbe, se dovesse finire così, il secondo pareggio. E' preziosissimo. Interessante anche cos'è la terza volta che prendiamo due gol. Eh sì, col Bologna e col Sassuolo. Anche con la Roma. Anche con la Roma. Anche con la Roma. In casa la terza, con Bologna e col Sassuolo. In casa la terza, con Bologna e col Sassuolo. E tra l'altro si sta andando a far benedire il record dei gol subiti perché siamo saliti adesso a 17. Siamo ancora in corsa. Eh no, bisogna essere sempre... Cioè, quando c'è la stagione bella la devi sfruttare. Esatto. Bissec che si fa tutto il capo. Attenzione. Carica il destro e spara alle stelle. Non la seconda, nemmeno la terza e la quarta stella. Arriva in cielo proprio il pallone. Stella Cometa. Raggiunge la Stella Cometa. 5 minuti di recupero. 5 minuti di speranze. Per Cagliari di tenere il risultato, di allungare ancora. Anzi, non allungare perché la penultima e la terz'ultima hanno pareggiato. Il Frosinone è addirittura a Napoli e il Sassuolo in casa col Milan. Quindi per tenere le distanze andrebbe a 31. Sarebbe quanti punti? Ancora più 4. Cioè, 40 secondi per rimettere in gioco il pallone. Intanto Dazon fa vedere che l'Inter, insieme alla Roma, è la squadra che ha segnato più gol nell'ultimo quarto d'ora. Ben 18. E allora alimentiamo questa statistica. Esci, esci. Bissec che vediamo se la dà Sommer. No, perché non si fida. Assieme a te di uscire il portiere. La poteva dare, però non si fida il passaggio di piatto. Bissec un po' sofferente. La butta in fallo laterale. Quindi rimane in attacco addirittura il Cagliari. Attenzione, perché a volte le partite sono strane. E ripeto, poi... La trappolina è sempre dietro l'angolo. Ah sì, eh. Il Cagliari è una... Come te la ricorda, vedi, Ugo? Non avevo capito, non ho sentito... La trappolina. No, no, ma è vero. Perché il Cagliari, l'ho detto anch'io prima, cioè negli ultimi minuti il Cagliari è un'altra squadra. È vero, spesso in casa. Spesso in casa. Addirittura ha fatto delle rimonte pazzesche che qua ci ricordiamo. Abbiamo vissuto anche in studio. 4-3. Ora vediamo se Frattesi, l'uomo degli ultimi secondi, riesce a segnare il gol del 3-2. Dai, dai, dai. Con Barella, Cialanoglu. Ne mancano 3 e mezzo ancora. Buchanan sulla sinistra. Deve metterla a terra. Ci riesce. Se la porta sul destro. Destro-sinistra. Ancora sul destro. Si accentra. Attenzione. Teijan, Buchanan per Cialanoglu. Ne ha di fronte uno. Allora la Dunfris che si deve girare. Allarga a destra per Barella. Barella che crossa. Scodella. Troppo piano. Ancora Inter con Cialanoglu. Barella che deve alzare un po' di più il cross. C'è Arnautovic in mezzo all'area che non ne ha fatta una buona. Cialanoglu. Magari un colpo di testa. Una sponda. Ora Carlos Augusto per Buchanan. Ancora a sinistra. Buchanan se la porta sul destro. Ora destro-sinistra la perde. La recupera. Ancora il numero 17 canadese. Palla al centro. Respinta. Non arriva Carlos Augusto. Allora riparte il Cagliari. Pericolo. L'Inter è tutta sbilanciata. Frattesi prova a dare una mano ai suoi dietro. Gombisse che Cialanoglu. Ora arriva anche Barella. Il Cagliari rallenta in questo caso. E quindi fa capire che il pareggio gli sta bene. Senza mai rinunciare comunque ad andare pericolosamente quando può in avanti. Ora tiene la palla. Fa girare la palla. Due minuti e mezzo. Sui cinque di recupero se ne sono andati. Altri due minuti e mezzo. Se l'Inter pareggia questa partita deve per forza vincere il derby. Per vincere lo Scudetto lunedì 22. Bastoni che guarda attento questa partita. Questo finale di partita dalla panchina è uscito. Carlos Augusto sta facendo il terzo di difesa. Biucanan è alto a sinistra. Ora Barella che sventaglia proprio da destra a sinistra. Per Carlos Augusto che avanza. Ora Biucanan. Ancora Biucanan che punta l'uomo. Vediamo se inventa qualcosa di sinistro. Forse troppo forte la palla. Arriva pericolosa e credo che guadagni un angolo. Perché Scudetto la tocca prima che la palla uscisse. Quindi calcio d'angolo. Devrai dice quanto manca. E cerca di incoraggiare i compagni. Non so se è angolo però. Sì è angolo. Calcio d'angolo. Ricordiamo ancora anche che il gol del Cagliari. Il gol del Cagliari. Visto che abbiamo ricordato tante volte altre cose. Stavolta il gol del Cagliari non era regolare. Calcio d'angolo per l'Inter. Palla al centro. Il colpo di testa. Palla che resta lì. Ancora la Padula che prova a far ripartire il Cagliari. Non c'è nessuno però dove lancia la palla. Allora ultime speranze per l'Inter. 90 secondi alla fine. Dai dai dai. Con Barella che ultimo uomo. Alza la testa. Tutti in the box. Anche Bissek. Arnautovic. Turam. Dunfris. Acerbi. Tutti gli altri. Tutti gli alti. Anche Carlos Augusto che ora però si allarga. Gira di qua. Tira sta palla. Dai facciamo sto cross in aria. Ancora Barella. Inter che vuole andare ancora con la razionalità. C'ha la Noblu. Per Arnautovic. Che la da Buchanan sul destro. No. Sbaglia Tejon. E riparte allora il Cagliari. Non è fuori gioco. Attenzione. Pericolo. Due contro uno. La Padula. Vede Viola. Lo serve. Viola di testa. Parata di Sommer. Viola si mangia il 3 a 2. Di testa. E Giulini che stava quasi per esultare. Incredibile. Dai 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 che lo facciamo. Che partita ragazzi. Un due contro uno. Ora si gioca veramente come se fosse l'ultimo minuto dei tempi supplementari. Sbagliato col freddo. Quattro spaccate. Inter che la vuole vincere. Mancano 30 secondi. Carlos Augusto alza la testa. La W Cannon. Se la porta sul destro. Il cross. No. Frattesi. Non è nella posizione giusta. Allora ancora respinge la difesa. C'è Arnautovic che non si capisce che ruolo fa. Il difensore fa. Ancora Turam. Vai dentro. Turam che vede Dunfriss. No. Dunfriss è dietro. Allora Turam ci prova da solo. A crossare. Buona. Spinge ancora il Cagliari. Storicamente resiste. Ma cosa sta fatto? E ha sfiorato anche il 3 a 2. Il fischietto in bocca per Arnautovic. Mettile in mezzo. Ultimo cross. Barella. Per Frattesi. E la prende Frattesi. No. Murato. Ancora lui. Non è fallo. Fischia la punizione per il Cagliari. Qua finiscono le speranze dell'Inter. Arnautovic faceva l'ultimo uomo dietro. Arnautovic è veramente entrato con uno spirito inguardabile. Poi di te perché mi arrabbio. Poi di te perché mi arrabbio. Qua Frattesi ce l'aveva ancora quasi fatta a liberarsi al tiro ma l'occasione del 3 a 2 è clamorosissima. Perché è l'ha data in bocca centrale. La avuta Viola. Mamma mia. Bravissimo. Lapadula a pennellare da sinistra per Viola che di testa aveva tutta una porta e schiaccia centrale Sommer la parama. Il Cagliari festeggia un punto. Finita. E finita. 2 a 2. Inter Cagliari finisce 2 a 2. Mamma mia. Mi sa che troveremo i peggiori e… E quali troviamo? visto che comunque per tutto l'anno è stato perculato questo fatto della Marotta League, il peggiore oggi è il VAR perché il pareggio del Carri era da nulla quindi dopo di che l'Inter ha giocato male ci mancherebbe, il Carri ha meritato il pareggio però va sottolineato il secondo tempo malissimo meglio il Cagliari ha rallentato i ritmi ha pensato di averla già vinta poi ha preso il gol, è andato sul 2-1 e di nuovo ha fatto un altro errore dietro se passi in vantaggio non puoi due volte in vantaggio non puoi infatti riprendere se c'è questo divario tra te e l'avversario però devo dire che in effetti Arnautic ha perso una grossa occasione ragazzi ma all'ultimo minuto sei in difesa ma stiamo scherzando posso stare in mezzo a saltare di te quindi l'Inter può arrivare anche massimo a 101 record di Conte no è salvo il record di Conte ancora salvo il record di Conte vedi Borrelli, Brambati Massimo, Massimo com'è che è vero che secondo te giustamente non è che passasse molto per l'Inter da questa partita però sicuramente prendere due gol e farsi rimontare per due volte non è piacevole davanti a un pubblico che si aspettava il trionfo che avrebbe portato il tuo colore sono ragazzi che tirano tirano la carretta da un anno hanno giocato anche la Champions hanno vinto un sacco di partite hanno fatto delle prestazioni straordinarie oggi mancava anche Lautaro insomma io giustifico il fatto che se anche stacchi la spina per 30 minuti per 20 per 15 per non so quanto tra l'altro io risottolineo quello che ho detto qualche settimana fa il calendario va bene quello appeso che ho scritto aprile maggio giugno il calendario alla fine dell'anno nelle ultime 7-8 giornate lo devi levare perché io so che per esempio le squadre che lottano per retrocedere hanno motivazioni e spirito diverso giocano col coltello fra i denti col coltello fra i denti chi gioca la Champions chi cerca uno spazio in Europa quindi le squadre motivate e l'Inter in questo momento sta respirando cioè che cosa gli devi chiedere di vincere nel derby ma è roba secondo me questa per i tifosi non per per i giocatori certo magari i giocatori ci sperano però tu hai visto anche a Udine hai rischiato di pareggiare ma ci sta l'anno scorso il Napoli mollò completamente se vi ricordate mancava continuavano a rimandare non so se di uno di due o tre punti e rimandavano la festa a Scudetto quando sei hai tirato l'arcarretta per tanto tempo e hai vissuto in adrenalina in in tensione eccetera eccetera ci sta è umano è umano mollare e comunque vinci lo stesso certo certo chissà adesso Up and Down Michele vai allora Barella lo confermiamo tra i migliori almeno a livello diciamo di prestazione anche se non ha diciamo fatto gol però è un centrocampista ha riempito la partita di tante cose buone sta bene quindi il 7 che potrebbe essere anche 7 e mezzo del primo tempo come diceva forse Riccardo però diciamo 7 senza esagerare poi l'Inter ha pareggiato la partita quindi Barella ha confermato sugli altri io Sanchez diciamo 7 meno ma lo tengo ancora con un buon voto mi è piaciuto quando è uscito lui si è vista un po' la differenza clamorosa con Arnautovic e poi la difesa non posso più mettere nemmeno Bissek nessuno della difesa come terzo a questo punto metto metto Di Marco con un 6 e mezzo che aveva fatto comunque bene ha attaccato molto fin quando ne ha avuto è uscito poi al 76esimo il punteggio era di 2 a 1 quindi 6 e mezzo per Di Marco i down allora mi dispiace ma l'atteggiamento purtroppo non è la prima volta con cui è entrato Arnautovic non mi è piaciuto per niente non è un accanimento perché non ho niente contro Arnautovic non è un accanimento però gli do 4 perché veramente non ha fatto una giocata che sia una decente e soprattutto nell'assedio finale stanno per fare il cross lui è sulla 3 quarti ultimo uomo vai 6-2 metri vai in aria per non parlare di un'altra azione in cui doveva andare a fare il contropiede 4 contro 4 si è fermato e è tornato indietro l'unica volta che il Cagliari era scoperto quindi proprio atteggiamento inguardabile forse troppo in clima festa ho visto che festeggiava con i tifosi quando era in partita si ma diciamo che purtroppo è tragicamente in linea con quello che ci ha fatto vedere quest'anno ma per questo dico lui ha un altro anno di contratto Giovanna lui ha un altro anno di contratto ti vuoi guadagnare l'Inter l'anno prossimo perché non è che ti basta l'anno di contratto se fanno una valutazione e ti dicono insufficiente poi ti possono anche piazzare se hai l'anno di contratto era un disastro abbastanza annunciato questo vabbè ma col Bologna aveva fatto 14-10 gol negli ultimi due anni aveva fatto 14-10 gol ma si ma era sempre infortunato era sempre infortunato questo era il punto di interrogazione dovresti mangiare l'erba per far vedere che ti dispiace che sei stato fuori e invece non mangia niente nemmeno le mosche allora gli altri insufficienti sarà clamoroso però Turam che nel primo tempo la coppia centrale sì però io voglio mettere pure Turam che 5-5 ha segnato nel primo tempo il secondo bastoni a Cerspi ragazzi sì la sostituzione ci ha meravigliato un po' perché Sanchez forse non ne aveva più però almeno ha corso fin quando è rimasto in campo mentre Turam un po' non mi ricordo superare creare la superiorità poi dietro metto insieme nella stessa riga bastoni a Cerspi male malissimo sui due gol hanno fatto una tornita sui due gol sì forse bastoni più sul primo sul secondo lo voglio rivedere se è più a Cerspi forse comunque gli diamo un gli diamo non so 5 troppo 5 5 a tutti e due bastoni a Cerspi 5 cioè troppo 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 basso però sono due gol subiti Borrelli no ma fai bene secondo me perché se Turam ha trotterellato è stato macchino ma glielo metto il 5 perché due gol subiti più hanno dato anche la palla gol del 2 a 3 al Cagliari quella di Viola ci sta quindi a Cerspi bastoni 5 nell'ultima riga peccato insomma che la fase difensiva che è stata sempre un fiore all'occhiello quest'anno oggi si sono un po' rilassati dietro a me non sono piaciuti neanche in primo tempo quindi insomma il secondo tempo l'hanno peggiorata un po' scappati i cavalli nel senso anche la ripartenza in cui Viola si mangia il 3 a 2 cioè si vede proprio che non c'è testa perché tu tieni il pareggio stai tranquillo invece lasci il 2 contro 1 al secondo tempo proprio mi è sembrato un clima di festa la sensazione è che nella tua testa hai il campionato che sta arrivando la consapevolezza di essere forte che prima o poi il gol lo fai Riccardo visto a Udine con che voglia sono andati a voler vincere la partita poi alla fine Scudfett fa due belle parate non dimentichiamocelo perché quello è adesso l'Inter adesso l'Inter ti fa un'azione di tre gol però nella giornata se andiamo a analizzare la giornata di oggi il Frosinone va a fare due gol a Napoli il Milan prende tre gol dal Sassuolo l'Inter prende due gol dal Cagliari la Roma non batte l'Udinese la Juve non batte il Torino però Thomas hanno tutte una logica il Napoli quest'anno in difesa ha fatto ridere tutto l'anno Milan e Roma hanno messo le riserve perché hanno giocato giovedì perfetto però dove voglio arrivare io che le prime sei squadre della classifica hanno inciampato hanno pareggiato tutte con squadre le ultime sei della classe che hanno motivazioni però in teoria le motivazioni ragazzi ma la gente le squadre come diceva Massimo si devono salvare tirano fuori l'anima il secondo tempo del Cagliari è stato meraviglioso aspettava e ripartiva e ha rischiato anche di vincere la gara meritatamente Napoli che non ha niente da chiedere a questo campionato però se vinceva oggi andava a quattro punti dalla Roma secondo me ho capito però ti sto dicendo con un Frosinone che si deve salvare ragione che è quelle che devono salvarsi chi lo vuole di più anche perché la forza in campo pendeva tutta la carta come dice Massimo le famose carte sulla carta è più forte le facciamo prima stracciare io credo che l'Inter questa partita l'abbia presa sotto gamba perché con il pareggio del Milan l'Inter ha detto va bene così tanto domenica giochiamo lì con la vittoria siamo matematicamente campioni e la testa nel secondo tempo è andata secondo me Thomas più che sotto gamba all'inizio perché ha fatto un bel primo tempo è il secondo tempo che entrate in campo forse pensando già di aver fatto quasi tutto invece la partita era aperta si vede una cosa che secondo me allora non sei inserata ho capito sei entrato un po' mole nel secondo tempo però ripassi in vantaggio l'Inter di un mese e mezzo fa l'Italia in area non lo fa più arrivare ok perché hai avuto la possibilità hai preso il gol vabbè è nata male però hai la fortuna di andare avanti un'altra volta e lì si vede che qualcuno poi diciamo pure che il secondo gol insomma nel campionato di quest'anno lo annullano sempre ma non nel campionato di italiani in tutte le campionate allora ribadiamo il discorso quindi del Massimo vengo da te poi vado da Ugo perché c'è un discorso ok con tutti i difetti che può aver avuto l'Inter ha staccato la spina nel secondo tempo ha sottovalutato l'avversario non mi sono piaciuti i cambi di Inzaghi ti chiedo questo è una delle mie domande c'è però un errore del VAR che non è intervenuto nell'occasione del 2-2 del Cagliari Massimo ma sull'errore del VAR io tu lo sai dico sempre che il braccio insomma lui gli arriva non guarda neanche la palla quando gli arriva la padula neanche sta guardando il pallone che arriva io sono convinto che non lo stava guardando sì sì no no è completamente involontario non lo so ma io detto questo detto questo io invece tra virgolette un po' difendo il fatto che che le motivazioni spesso e volentieri la fanno da padrona cioè il Cagliari come il Frosinone come le squadre che stanno lottando per non retrocedere danno tutto col coltello fra i denti non mollano niente tirano fuori anche quello che non hanno dentro vorrei ricordare che oggi il Cagliari comunque sia ha fatto star fuori qualche titolare Dossena in primis perché pensava comunque di potersi giocare la partita con tra virgolette un po' le seconde linee in qualche in qualche zona di campo ed avere poi la possibilità per esempio di mettere la padula dopo perché credo che forse desse anche per scontato che l'Inter avrebbe comunque vinto e puntava Dossena era squalificato beh Dossena era squalificato l'ha tenuto perché altrimenti una munizione avrebbe pregiudicato la sua presenza venerdì con la Juve c'era anche Luvumbo squalificato l'ha tirato fuori mi sembra al settantesimo al settantacinque cioè ha fatto delle valutazioni anche a Ranieri da allenatore Volpone qual è di pensare ho più possibilità di fare risultato in casa con la Juve che portare a casa un punto qui da Milano che debba necessariamente vincere con il derby anche dal punto di vista delle motivazioni che si possono riaccendere per una partita così ma secondo me le motivazioni non si devono riaccendere questa squadra le motivazioni ce li ha dentro di sé dal 13 di luglio questi ragazzi sono sono da applaudire anche stasera insomma nonostante siamo dispiaciuti per un pareggio volevamo la vittoria abbiamo trovato una squadra che è venuta a San Siro a fare un'ottima gara a correre a difendersi a ripartire chiaramente due volte in vantaggio dovevamo portare a casa la partita ma vedo una squadra concentratissima sul pezzo che nel giorno di ritorno penso che abbia fatto abbia fatto 10 vittorie 11 vittorie e due pareggi quindi ho poco da dire ai ragazzi chiaramente volevamo l'ennesima vittoria davanti a questo pubblico meraviglioso ma sappiamo che lunedì è la prima grande occasione per siamo vicini a un grandissimo traguardo che vogliamo tutti quanti raggiungere prego ciao Simone ciao c'è un po' di delusione per il record di punti comunque che è sfumato che non potrà più essere raggiunto o è una cosa alla quale non pensavi più di tanto ma noi stiamo pensando a un obiettivo che avevamo in testa noi dal 13 luglio con i ragazzi siamo stati chiari che volevamo arrivare lì e quindi sappiamo che ci siamo vicini poi insomma il record di punti di vittoria penso che questa squadra stasera segnando anche stasera abbia raggiunto tantissime partite sempre sempre con gol ma al di là dei record noi il nostro obiettivo è quello ci siamo vicini però non dobbiamo abbassare la guardia sappiamo che mancano sei partite e 18 punti a disposizione tutto sport prego ciao Simone scusa ma il rigore l'hai poi rivisto e se sì cosa ne pensi perché a me è sembrato che comunque non fosse regolarissimo ma l'ho detto prima insomma si corrono tanto in mezzo al campo gli arbitri corriamo noi quindi possiamo sbagliare noi i giocatori gli arbitri chiaramente insomma vedendolo rivedendolo ci poteva chiaramente essere una una revisione però è successo è andata io ho analizzato il primo gol che non dovevamo prendere il secondo chiaramente non ho analizzato perché chiaramente è stato è stato viziato però nessun problema andiamo avanti con questa mentalità qui davanti e poi chiudiamo ciao mister buonasera inizia una lunga settimana che porterà al derby col Milan come dicevi anche tu prima su quali tasti batterai a livello emotivo come si prepara questa settimana venite da un filotto importante contro il Milan non so se anche questo sarà uno dei tasti su cui battere insomma a livello mentale come si prepara una partita così tanto importante si prepara che da mercoledì analizzeremo chiaramente quello che non è andato bene stasera che Cagliari sapevamo che aveva ripartenza abbiamo trovato una squadra che ti allungava perché avevano i due attaccanti che allungavano la linea quindi il Cagliari è una squadra che fa allungare tutte le squadre avversarie quindi dovevamo cercare di tenerle distante nonostante questi questi attaccanti che attaccavano tanto la profondità analizzeremo il Cagliari e poi ci prepareremo nei migliori di modi per la partita di lunedì che può regalarci un grandissimo un grandissimo sogno sapendo che affrontiamo una squadra che che sta bene che ha fatto tantissimi punti nel giorno di ritorno e che cercherà di fare del meglio davanti ai propri tifosi